Ciao ragazzi, inseriori Novi Saffa Cacemix, fotocamera migliorata, soprattutto quella anteriore con una proiezione di punti sul viso che consente alla fotocamera infrarossi di illuminare la propria faccia quando c'è poca luce. Questo consentirà di aumentare le possibilità che il riconoscimento facciale 3D funzioni in modo ottimale. Questo lo può vedere in questi punti solamente la fotocamera infrarossi. Inoltre, grazie alla potenza del processore, in HDR si possono scattare fino a 4 frame in esposizioni diverse. Io, che non sono un esperto di fotocamere e di foto, quindi non so cosa voglia dire, ma questo è il tutto. Eh, poi è meglio perché ci si vedevano tre peni in capo. Scusami, eh. Ok, a sua poco. Quando ti si vede, ti si vede sempre qualcosa che non va. Eh.